Abbiamo trattato la settimana scorsa l'argomento complesso De Giro ed il suo cambiamento sulla politica di gestione degli ETF che sono quotati sulla borsa italiana. A prescindere che bisogna effettivamente andare a controllare quali saranno gli effettivi esiti finali su noi consumatori e investitori finali, cioè noi poveri acci della porta accanto, quali potrebbero essere le varie alternative nel caso volessimo cambiare? Oggi vediamo quelle che sono a mio parere le migliori alternative sia in regime dichiarativo che in quello amministrato. Stai fino alla fine del video se vuoi capire quale sia la scelta migliore per te. Settimana scorsa ho pubblicato questo video che ha avuto un fortissimo seguito. Dato l'interesse nell'argomento percepisco la vostra preoccupazione e la preoccupazione di molti di voi per quello che potrebbe effettivamente accadere. Vi darò per cui alcuni spunti su alternative che siano esse sim, bancari o broker puri sia in regime amministrato che in regime dichiarativo con i vari pregi e difetti. Una disamina veloce ma se volete un approfondimento specifico su una di queste piattaforme o se più di esse fatemi sapere nei commenti qui sotto che lo faccio volentieri. Partiamo prima da regime amministrato e poi andiamo a passare a quello dichiarativo ricordandoci che ovviamente ogni investitore è un mondo a parte, un mondo a sé stante e ha per cui le proprie personali esigenze. In ecco la piattaforma più famosa in Italia sicuramente, banca tra le eccellenze italiane. Costi di transazione che per ad esempio etf replay possono essere di soli 3 euro scarsi ma che per alcune operazioni a volte sono veramente costi elevatissimi che possono anche raggiungere i 19 euro a transazione. Anche gli etf se non all'interno di etf replay possono raggiungere costi vicino ai 10 euro ad operazione. Se non si investono grosse cifre ogni volta diventa veramente difficile operare senza spendere tanti soldini. Fra l'italiana è sicuramente la più completa con 26 borse disponibili e cambi a 20 valute a costo zero a parte ovviamente lo spread. La scelta più amata a mio parere degli italiani, un po' come si potrebbe dire scavolini che come menzionavo è anche una banca a tutti gli effetti che provvede ovviamente a un conto corrente con carte e tutti i servizi bancari necessari che ogni banca vada ad offrire. Ottima anche per quello che sento di dire in giro per l'utilizzo del credit Lombard. Banca Sella Banca Sella la conosciamo tutti per la sua marcata presenza nel mercato dei post ma è anche una banca a tutti gli effetti che offre servizi come Fineco di banca completa e oggi la citiamo anche per quello che è l'investimento. A livello di prodotto è nettamente inferiore a Fineco dando accesso a soli 13 mercati azionari ed etf sia con un profilo digressivo basato sull'importo e dell'operazione che un profilo fisso o a percentuale basato sempre sull'importo investito. In questo caso si può accedere a diversi profili che un investitore può valutare in base alle proprie esigenze. Esiste anche qui un mercato per i derivati e per l'obbligazionario come Fineco a cui si applicano le stesse dinamiche di quelli azionari ovviamente in termini di commissioni. Bigis Axo, il broker più completo in ambito amministrato è secondo per prodotti solo a Interactive Brokers però ovviamente quello in termini dichiarativi. Usato a lungo da parte mia dove ho ancora il conto ma ora che ho investito tutto nella mia attività qui su YouTube e sul mio lavoro da freelance in ambito di video editing e color corrector ho dovuto abbandonare. Motivi sono i costi piuttosto altini rispetto agli importi che riesco a investire adesso per ogni singola operazione ma su Bigis Axo ci tornerò non appena sarò di nuovo operativamente normale con gli introiti. Troviamo ETF, azioni, certificati, obbligazioni, CFD, Forex, Future, opzioni e così via. I mercati trattati come dicevo sono solo secondi a Interactive che sono più di 36 borse diverse e che hanno 3.000 di ETF, 19.000 azioni e 5.000 obbligazioni. Tariffe che partono da 9 euro a operazione in base alla borsa o allo strumento. Si tratta anche di una banca a tutti gli effetti per cui anche in questo caso possiamo avere disponibilità di un conto corrente effettivo con carte e servizi diretti. Passiamo a directa alla sim più conosciuta in Italia. 16 mercati a disposizione con una discreta presenza di ETF ed azioni di cui unica pecca che trovo in questo broker è la mancanza del mercato UK grande e amato da non europei che investiamo in dividendi perché non c'è la doppia tassazione. Azienda che nel 2022 si è andata a quotare che ha triplicato i propri clienti portandoli sopra i 61.000. Offre un servizio chiamato Packing ETF che con una bella disponibilità di ETF offre un servizio di investimento gratuito su questi asset. Al momento non tutti i provider sono disponibili ma si stanno aggiungendo volta dopo volta. Il mercato delle opzioni è piuttosto limitato e risicato praticamente solo riservato agli indici mentre per il mercato italiano si trova praticamente di tutto. Forse se cercate trovate anche il mio ISIN. Spettaforma da look spartano per diverso tempo che migliora sempre di più col tempo. Unica e non banca del lotto presentato oggi. WIDIBA. Banca WIDIBA è la mia banca al momento non che me la sono comprata ma è il mio conto corrente ed ho operato molto con essa quando ero appena rientrato in Italia dove cercavo uno strumento di investimento e regime amministrato. In questo caso ci troviamo di fronte a una banca che offre 22 mercati mondiali e che anche propone in questo caso tutti i servizi bancari. Ha un profilo commissionario fisso con un 0,15% dell'investito con un minimale che varia in base ad ogni singolo strumento. Per le azioni e le obbligazioni italiane abbiamo un minimale di 5 euro e per quelle estere abbiamo un minimale di 10 euro. Per nulla male a mio parere fra le banche che ho presentato oggi è sicuramente la meno cala dell'otto anche qui troviamo tutto anche se non ci sono le opzioni ma fra azioni e obbligazioni Warrant Certificate possiamo trovarci soddisfatti. Ora passiamo al regime dichiarativo e partiamo con Trading212 o Trading212 broker che durante il periodo pandemico è esploso in termini di business e del quale ora se ne parla molto meno seppure sia ancora molto utilizzato. Offre tantissimi strumenti tutti a zero commissioni ovviamente c'è lo spread anche gli etf seppure data la regolamentazione di Borsa Italiana come per successo appunto per De Giro le azioni italiane sono su OTC ma gli etf sono molto liquidi e l'investimento minimo è di solo 1 euro. La quantità in euro viene premata con un 1,5% lordo di CAGR mentre quella in dollari può arrivare al momento fino al 2,65%. Il conto da poco è diventato multivaluta e si possono usare fino a 12 valute diverse convertendo direttamente all'interno della piattaforma. Da quando ho perso il lavoro mi sono dirottato di nuovo su questa piattaforma perché posso investire su strumenti frazionati ed ora i miei fondi sono vicini allo zero e la liquidità è quella che diciamo è rimasta solo quella del fondo di emergenza. Ho creato alcune PAI di investimento e se volete ve le lascio qui sotto in descrizione se voleste vederle o copiarle. Sono 15 mercati disponibili offre anche Forex, Commodity, CFD, Indici ma niente obbligazioni, opzioni o certificati. Passiamo a Scalable Capital un po' sulla bocca di tutti al momento sia per il marketing massivo e sia perché effettivamente è un buon broker a mio parere. Offre anche interessi passivi sulla liquidità fino al 2,6%. Si tratta di un broker tedesco che offre un servizio di pack totalmente gratuito su 1.700 ETF e con il piano Prime che è a pagamento tutti gli ETF di iShares Invesco e XTrakers sono in maniera completamente gratuita. Fornisce un report per la compilazione della dichiarazione dei redditi veramente ben fatto e molto chiaro lo dico perché l'ho ricevuto. Svantaggio il fatto che le borse disponibili siano normalmente solo GetEx, etc. Ci sono solo ETF di azioni e null'altro ma per chi opera su questi strumenti è ottimo ma come dicevo poco fa la varietà degli strumenti è piuttosto scarna. XTB Broker polacco quotato che da giugno di questo anno ha cominciato a proporre anche le azioni frazionate con investimenti minimi di lotti di 10€ Gratuite sono anche le transazioni fino a un importo di 100.000€ mensili mentre oltre questo valore si pagano 0.2% di commissione. Sono 16 le borse presenti con 3.000 strumenti disponibili. Anche per gli ETF abbiamo commissioni gratuite con investimenti minimi di 1€ a transazione per cui anche qui abbiamo degli strumenti frazionati e circa 300 ETF disponibili. Vengono offerte sia Crypto CFD che azioni ETF e CFD ma anche Forex, Indici e Commodities. Interactive Brokers il Brokers per eccellenza è il dio dei broker e credo che qui possiate trovare quotate anche i vostri parenti se li cercate. Qualsiasi cosa vi venga in mente la trovate e le commissioni sono fra le più basse del mercato ovviamente però nulla è gratis qui si pagano le transazioni e non ci sono diciamo degli strumenti gratuiti ma anche in questo caso si trovano le azioni frazionate per chi ne avesse bisogno. Non mi sono dirottato su Interactive sia perché ci sono delle commissioni e al momento sono povero come Frank Gravuglia e anche perché vedo l'interfaccia poco user friendly offre fai mercati OTC quotati, obbligazionali, ETF eccetera oltre 150 mercati diversi su più di 30 nazioni. È l'apoteosi dell'investimento ma ha la sua complicatezza indicatissimo per gli utenti esperti. Ricordandoci che questi non sono né consigli di investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice all'insù. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza la tua e iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Beh anche per oggi ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a presto! Ciao a presto!